Anche quest'anno parte la campagna di vaccinazione contro l'influenza. Siamo con il dottor Riccardo Tomins, direttore della struttura complessa igiene e sanità pubblica della Suiz di Trieste. Innanzitutto vorrei chiederle, dottor Tomins, perché vaccinarsi contro l'influenza? Perché l'influenza è una malattia frequente. L'anno scorso, nella settimana di picco, abbiamo avuto, stimiamo, circa 15 casi per mille abitanti a livello italiano. E' una malattia grave. Sempre l'anno scorso abbiamo avuto oltre 750 casi gravi in tutta Italia. Caso grave significa un caso da rianimazione, da terapia intensiva, con intubazione, con ossigenazione extracorporea e con oltre 170 morti. Quindi casi gravi. Ricordiamo che alcuni di questi casi sono particolarmente importanti, almeno per me. Sono tre categorie in particolare su cui puntate l'attenzione. Allora, i casi particolarmente importanti sono innanzitutto le donne gravide. L'anno scorso 12 casi in donne gravide, due sono morte. Quindi in gravidanza bisogna fare la vaccinazione contro l'influenza, secondo e terzo trimestre. Seconda categoria per la quale quest'anno si presterà particolare attenzione è quella dei soggetti diabetici, nei quali l'influenza può essere molto grave. E un'ultima categoria è quella dei donatori di sangue. Non perché sia particolarmente grave la malattia nel donatore, che di per sé si suppone sia una persona sana, ma perché ogni anno, durante la stagione influenzale, c'è carenza di sangue, perché il donatore si ammala e finché è ammalato, ovviamente non può donare. Quindi queste sono le tre categorie per le quali ci sarà maggiore attenzione quest'anno. Per oggi ci sono anche consigli per altre categorie? Allora, la campania è essenzialmente per i soggetti dai 65 anni di vita in su, quindi quelli nati dal primo gennaio del 1954. Le categorie a rischio, oltre a quelle che ho già citato e che ripeto, i diabetici, le donne in gravidanza e i donatori di sangue, sono le persone con malattie croniche e cardiovascolari, le persone con malattie respiratorie croniche, le persone con tumori, le persone in genere con malattie croniche gravi. Dottore, qual è stata la copertura l'anno scorso? Sta migliorando? C'è un trend di miglioramento? C'è un trend di miglioramento sia a livello regionale sia a livello locale, parlando di Trieste. È da notare però che Trieste sia come valore assoluto, sia come incremento rispetto agli anni precedenti, è sempre fanalino di coda. Quindi dobbiamo lavorare di più e proprio per questo motivo la direzione generale di ASU-ITS, assieme ai medici di medicina generale, intende per quest'anno avere una politica ancora più aggressiva, soprattutto con la fornitura quanto più rapida e massiccia possibile di vaccino ai medici di medicina generale, che sono quelli che operativamente vaccinano. L'obiettivo quindi è importante, insomma, innalzare questa soglia, questa soglia di copertura della popolazione. Quale tipo di vaccino userete quest'anno? Come per l'anno scorso, useremo il vaccino tetravalente, cioè il vaccino che copre quattro ceppi di virus, non solo tre, ma quattro, aumentando quindi la probabilità di avere nel vaccino il ceppo circolante. L'anno scorso questa è una scelta che è risultata vincente perché uno dei ceppi circolanti non era coperto dal vaccino trivalente e ci auguriamo che anche quest'anno questo sia una scelta vincente, anche perché è una scelta cara. Il vaccino tetravalente rispetto al trivalente costa di più. Avete scelto quest'anno proprio di puntare con una campagna specifica proprio su Trieste, perché è proprio il fanalino di coda per questo motivo? Le altre aziende faranno la loro politica e sarà anche per loro una politica di copertura, di aumento delle coperture, perché ricordiamo dovremo arrivare al 70-75% di copertura negli over 65. In regione siamo al 54, Trieste al 48, quindi dobbiamo assolutamente alzare il tutto. Trieste, io posso parlare per Trieste, cercherà in tutti i modi di aumentare le sue coperture proprio perché siamo in una posizione un po' scomoda. Le chiedo ancora questo, se è possibile vaccinarsi contro l'influenza e fare contemporaneamente altre vaccinazioni? Ma il problema si pone, nel senso uno può porsi la domanda, essenzialmente per l'Arpest Zoster, perché stiamo chiamando attivamente proprio la Corte dei Nati nel 1953 per fare questa vaccinazione. Ebbene, non ci sono problemi a fare nella stessa giornata o anche a breve distanza di tempo, sia la vaccinazione per l'Arpest Zoster, sia il vaccino anti-influenzale e anche il vaccino anti-pneumococcico 13 valente, che è l'altra vaccinazione che viene offerta attivamente e gratuitamente dai medici di medicina generale assieme all'anti-influenzale. Il dottor Dino Trento è vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Trieste e segretario regionale della Federazione dei Medici di Medicina Generale. Innanzitutto le chiedo, dottore, perché l'Ordine dei Medici interviene in questa campagna? Intanto buongiorno a tutti e ringrazio di questo invito. L'Ordine dei Medici, ricordo, è un organo istituzionale, è un organo sussidiario dello Stato e serve in qualche maniera a garantire al cittadino le migliori cure e i migliori professionisti. Proprio in quest'ottica l'Ordine dei Medici non può esimersi dal partecipare a una campagna che è importante per la salute di tutta la popolazione, soprattutto alla luce anche di recenti contrasti un po' anche ideologici che hanno modificato il modo di pensare della popolazione. Noi siamo veramente convinti che utilizzando le evidenze scientifiche stiamo facendo una promozione di una prevenzione veramente efficace che deve essere fatta. Ecco, questo suo intervento è molto importante perché il dibattito ci propone proprio questo tipo di contrasto e c'è sempre più gente, ci sono sempre più persone che sono diffidenti nei confronti dei vaccini, nei confronti di quello che poi dicono gli specialisti, i medici. Per combattere questo atteggiamento e quindi aumentare la copertura vaccinale che cosa pensate di fare? Abbiamo un unico modo di pensare sia all'interno degli ordini dei medici che delle associazioni scientifiche dei medici e anche sindacali dei medici in medicina generale. Siamo tutti convinti che seguendo le evidenze scientifiche noi proteggiamo in maniera completa e quanto mai possibile come dire attiva e quindi invitiamo i nostri pazienti a venirsi a vaccinare sia per l'influenza, contro l'influenza sia per altre malattie come facendo l'antipneumococica, l'herpes e quant'altro. Pubblicizzeremo anche queste. Inoltre noi siamo convinti che chi si vaccina oltre a fare del bene a se stesso perché evidentemente evita di ammalarsi fa verso la comunità e verso gli altri un atto di altruismo e direi quasi d'amore soprattutto se si tratta di bambini. Qual è l'obiettivo in questa campagna per quanto riguarda proprio i medici di medicina generale? A quale obiettivo mirate per quanto riguarda i vostri pazienti? L'obiettivo è quello di vaccinare quante più persone possibili in maniera tale da avere un'epidemia influenzale diciamo con bassi picchi e soprattutto con poche complicanze quindi poche complicanze di tipo respiratorio, le polmoniti quelle di cui parlava il dottor Tomins prima i casi gravi, i ricoveri il ricovero stesso causato da influenza è un costo per la comunità che non deve essere sostenuto ma anche le assenze dai posti di lavoro in un momento di crisi come questo contano per cui il fatto di vaccinarsi e di cercare di non ammalarsi e di non propagare il virus ripeto è un atto di altruismo nei confronti della società stessa e quindi è doveroso e qui devo fare un appello devo fare un appello agli operatori sanitari si dice, c'è scritto e sarà vero statisticamente che proprio gli operatori sanitari sono quelli che sono più scarsi sono più esti a vaccinarsi è un dovere quasi deontologico è un dovere che dobbiamo sentire all'interno della nostra professione che siamo medici, infermieri, fisioterapisti ma anche operatori della sanità non, diciamo, sanitari veri e propri dobbiamo dare il buon esempio dobbiamo dare il buon esempio noi in prima persona e quindi il mio appello va proprio ai colleghi medici e non medici nell'ambito sanitario di vaccinarsi Quale sarà la tempistica di questa campagna e quando è meglio vaccinarsi? La campagna inizia adesso dal 30 ottobre si dovrebbe partire subito il consiglio è quello di vaccinarsi nel periodo novembre-dicembre che è il periodo migliore poi si può modulare a seconda di quando ci si aspetta il picco della malattia comunque la campagna continuerà anche nel prossimo anno fino a febbraio quindi c'è tutto il tempo di recuperare anche dopo le feste di Natale Nell'ottica di informare proprio i nostri telespettatori chi desiderasse appunto vaccinarsi che cosa deve fare? Vogliamo ricordarlo Ma il punto di diciamo di incontro tra il cittadino tra il paziente e il medico vaccinatore è sicuramente l'ambulatorio del medico di medicina generale il quale avrà già dalla prossima settimana a disposizione i primi i primi diciamo kit di vaccinazione e potrà appunto vaccinare già dal 30 basta rivolgersi al proprio medico o prendere appuntamento o recarsi da lui e seguire le sue istruzioni che saranno senz'altro quelle migliori caso per caso Un'ultima domanda riguarda i bambini a chi bisogna rivolgersi appunto nel caso un genitore volesse vaccinare il proprio bambino proprio contro l'influenza La vaccinazione nei bambini è consigliata in casi particolari e scelti bambini monosoppressi con particolari patologie per questo motivo per i bambini i genitori devono rivolgersi sempre al proprio pediatra di fiducia e chiedere a lui e concordare con lui eventualmente l'opportunità di fare la vaccinazione Grazie